Presero tutte le donne giovani, le portarono nei campi dell'amore per essere ingravidate pensando che avrebbero prodotto una qualche superumanità. Hanno investito 100 milioni di dollari. In questo momento queste cose vengono guidate da forze commerciali, interferendo con la sostanza fondamentale della vita. In questo modo avremo un prezzo da pagare. Vedi scherzare con i fondamenti della vita? Se conoscessi tutto, forse andrebbe bene fare alcune cose. Ma in questo momento queste cose vengono guidate da forze commerciali. Hanno investito 100 milioni di dollari. Hanno fretta di portarlo sul mercato il più velocemente possibile, perché le cose gli si stanno accumulando addosso. Non è questo il modo di fare questo tipo di cose. Questo tipo di cose, se proprio dobbiamo farle, dobbiamo farle in modo tale che non ci sia nessuna pressione di portarle in uso senza essere davvero sicuri al 100% di cosa stiamo facendo a questo. Ora, ciò che stiamo presupponendo in tutta questa faccenda è che pensiamo che se hai una buona genetica diventerai un essere umano fantastico. Questo significa che sei un dannato razzista. Faresti meglio capirlo. Adolf Hitler In quei tempi gestiva quelli che erano chiamati i campi dell'amore, perché credeva che i suoi soldati tedeschi, che si supponeva fossero ariani o quant'altro, fossero la razza migliore. Quindi trovarono in tutta Europa, presero tutte le donne giovani, le portarono nei campi dell'amore per essere ingravidate dai soldati tedeschi a centinaia. Pensando che avrebbero prodotto una qualche superumanità. No, potresti avere... Tuo padre potrebbe avere la corporatura di un toro e pensi che sia un'ottima genetica. Ciò non significa che produrrai un grande essere umano. No. La vita non funziona così. Stai trascurando tutto il resto. Quando tua madre ti ha portato nel suo grembo, con immenso amore, e ciò che questo ha fatto al bambino lo hai dimenticato, pensi che sia solo la stupida genetica che sta facendo tutto. Guarda solo nella stessa famiglia. Nati dagli stessi genitori, i figli sono allo stesso modo, stesse assurdità genetiche. Uno è là, uno è qua. Non è così. Quindi stiamo trascurando l'impatto della consapevolezza. L'impatto delle emozioni umane, del pensiero umano, delle atmosfere che creiamo. Quindi niente di questo è rilevante. Solo manipolare la genetica. C'è stata una grande controversia in India sulle piante geneticamente modificate. È arrivato il cotone GM, poi è arrivata la melanzana GM. Stavo cercando di capire cosa fosse. Quindi una delle principali aziende che lo sta facendo, ho incontrato questo tipo e gli ho chiesto che cos'è, che cos'è che state manipolando. Tutto quello che stanno facendo è con le verdure. Il problema principale è che quando coltivi delle colture vegetali che sono di breve durata, tre o sei mesi, qualunque sia la vita della pianta, per ottenere la massima resa, uno dei maggiori ostacoli sono gli insetti e le altre cose, che devono mangiare qualcosa. Vengono per la pianta. Solitamente non vengono per la verdura. A loro piace la foglia. Questa è una buona collaborazione tra noi e loro. Loro mangiano la foglia e noi mangiamo la verdura. Ma se mangiano troppa foglia, allora non ci sarà molta verdura. Quello è il nostro problema. Quindi stiamo cercando di fare la guerra chimica con loro, irrorando tutto quanto. La cosa più responsabile che abbiamo fatto sul pianeta è che i nostri aerei stanno spruzzando insetticidi, uccidendo praticamente ogni cosa. Quindi per evitare questo, siccome abbiamo visto che non va bene, ora abbiamo pensato, qualunque sia il motivo per cui l'insetto arriva in quella foglia in particolare, lo togliamo con l'ingegneria genetica. O lo rendiamo amaro per l'insetto. Vedi, l'insetto ha gusto. L'insetto vuole mangiare questa foglia perché è succulenta, nutriente per lui. Quindi la rendi amara. La foglia diventa amara. Non la verdura, solo la foglia. Per questo motivo, l'insetto non sarà in grado di mangiare la foglia. Ma poi ho pensato, è una soluzione permanente? Ha risposto, no, Sadhguru. Ogni stagione dobbiamo riprogettarla. Perché nel giro di tre mesi, l'insetto trova una soluzione nuova per se stesso. Imparerà come fare in modo che l'amaro abbia un buon sapore. Ora deve riprogettarla di nuovo. Quindi lentamente quello che accade è che dopo 8-10 anni di ingegneria genetica su una pianta specifica, diciamo, produrrai un super insetto che un giorno potresti non essere in grado di gestire. L'insetto diventerà così versatile che potresti non avere niente per uccidere quell'insetto o per evitare quell'insetto. Quindi l'insetto si sta evolvendo più velocemente della tua intelligenza. Siccome la sua sopravvivenza si sta evolvendo velocemente e sta cambiando se stesso. Quindi ho detto, l'insetto non sta diventando sempre più forte? E lui, sì. È sorprendente quanto forti stiano diventando. Quindi cosa accadrà tra 50 anni? Avrai degli insetti che non sai come gestire. Se l'insetto può cambiare le sue papille gustative, l'insetto può cambiare questo e quello. Supponi che decida, siccome stai facendo tutto questo, che un giorno decida di diventare grande così. Quell'insettino è diventato così. Allora cosa farai? È una possibilità? Gli ho chiesto. Lui è davvero profondamente immerso in queste cose. Ha detto, non possiamo dire che non sia possibile. È possibile. Un giorno l'insetto potrebbe decidere che questa taglia e questo modo di fare le cose non va bene. Se è tanto così e se diventa tanto così, allora sarà una partita completamente diversa. Quindi stiamo interferendo nelle cose con dei frammenti di informazioni. Non conosciamo il panorama completo di come il materiale genetico stia accadendo. Non solo nell'essere umano, in ogni cosa intorno a noi. Supponi che hai manipolato la genetica. Questa è una possibilità di cui alcuni scienziati stanno parlando. Una genetica manipolata significa, diciamo che è così, tua zia ha avuto il cancro, sua madre ha avuto il cancro, tua nonna ha avuto il cancro. Quindi manipoleremo la tua genetica in un modo tale che non avrai il cancro. Quella è l'idea di questa manipolazione. Con questa manipolazione è alquanto possibile. E penso si stia già manifestando in così tanti modi diversi. Una cosa è che i livelli allergici possono aumentare alla grande. Ci sono così tante persone negli Stati Uniti che sono allergiche ai raggi del sole. allergiche all'attosio, al latte, allergiche alle nostre arachidi. Allergia significa che non lo sapevo. Me lo hanno spiegato sull'aereo. Vedevo che mi davano qualche noce di macadamia scadente sull'aereo. E ho detto non ho intenzione di mangiare questa noce. Avete delle arachidi o noccioline o come le chiamate? No, no, non ce ne sono su questo aereo perché c'è una persona che è allergica. Se lui è allergico qual è il mio problema? Non così. Se apri il pacchetto morirà. Veramente. Se tu solo apri il pacchetto qui, l'uomo è seduto da qualche altra parte, solo l'odore soffocherà e morirà. Puoi battere questo. Questo non è necessariamente a causa di una modificazione genetica nella persona, ma le sostanze, i prodotti chimici e simili che stanno entrando nel sistema stanno facendo queste cose. Quindi una delle possibilità è che puoi diventare allergico all'aria che respiri. Quindi questo è un bene perché se produco delle bombole di ossigeno penso che sia un ottimo sviluppo del mercato perché venderò milioni di queste cose. Chi ti ha detto che devi bere tre litri, quattro litri di acqua al giorno? Quelli che vendono l'acqua. Sì. No, no, i dottori lo dicono. Quelli che bevono... Ora, se bevi tre, quattro litri di acqua al giorno, anche se l'aria è fredda, è per questo che abbiamo più bagni dei 300 milioni di persone che abbiamo. Abbiamo 600 milioni di bagni perché ovunque ci vorrai andare. Nessuno ha mai bevuto questa quantità di acqua. Anche in un paese tropicale dove fa molto più caldo. Non beviamo acqua in questo modo. Solo in America, al freddo, a New York dove fa freddo, vedrai delle persone camminare con una bottiglia dell'acqua come se all'improvviso diventasse un deserto e non ci sarà più acqua e qualcosa succederà. Questo è perché ci sono degli interessi commerciali. Qualcuno dice se bevi caffè non avrei mai un attacco di cuore. Ora qualcuno dice se bevi caffè ti verrà il cancro. Sono cose diverse ma interferendo con la sostanza fondamentale della vita in questo modo avremo un prezzo da pagare. In che forma non lo sappiamo. È un bene che la scienza esplori tutte queste cose. È fantastico. Dobbiamo esplorare. Ma questo uso prematuro di queste cose succederà inevitabilmente quando ci sono degli interessi commerciali. Non c'è alcun modo di prevenirlo in questo momento. non c'è alcun modo di prevenirlo in questo momento. Non c'è alcun modo di prevenirlo in questo momento. Non c'è alcun modo di prevenirlo in questo momento. Grazie.